Ed eccoci di nuovo insieme dunque con lo sport, partiamo dalla serie B con il Corriere dell'Umbria, Grifo, fattore X da schivare, in latina già matematicamente retrocesso, è la squadra che ha ottenuto più pareggi, 20, del Perugia che ne ha collezionati 19. Il Perugia quest'anno non è mai stato a suo agio con le squadre che hanno lottato per la salvezza, lasciando per strada punti pesanti, ma per sperare servono solo vittorie e questo naturalmente viene ripetuto ormai da tempo. Vediamo il modulo, il 3-4-2-1 è la soluzione tattica più accreditata, Gnaore sempre in dubbio, si dichiara, fa il terzo di difesa sulla corsia a sinistra, spazio di nuovo ad Alassane. Intanto Sabatini un ex Grifone, ma ex anche della Roma e in Umbria, tra l'altro anche del Gubbio, riparte dalla Cina, come abbiamo visto essere al centro del progetto legato alla proprietà dell'Inter e non solo. Torniamo alla Serie B, Ternana all'assalto dell'Impresa, centrocampo tocca Coppola, Fere costretta a cambiare nella partita casalinga contro la capolista Spal, una sfida decisiva, conferma in blocco per gran parte della squadra che ha sbancato Vicenza. Continua ancora sulla corsia a sinistra della difesa, in attacco si candida Pettinari, Falletti a parte, defende e esce prima, ma sabato saranno a disposizione per questa vitale gara. Una parentesi di pallavolo perché c'è la notizia attesa dai tifosi della Sira, avanti con Bernardi, domani l'ufficializzazione, ma per il coach un anno in meno, riduzione dell'ingaggio, svolta in campo dirigenziale, recine direttore tecnico, Vujovic resta di essere, erizzuto direttore generale, attesa per gli annunci di Sirci. Dunque torna il Sereno in casa a Perugia, per la Bonini intanto è una due, non ti resta che vincere, c'è da prolungare la serie di finale per accedere proprio alla Superlega, poi la Thun Perugia sogna la serie a due, sabato si parte. Torniamo però al Gubbio, al calcio dopo questa parentesi di pallavolo perché il Gubbio che vive ormai l'imminente attesa della sfida con la Samba di sabato, ricordiamo alle 15.30, torrente Alessandrini, prof di playoff. Il Gubbio può essere la mina vagante, i due ex allenatori all'unisono, la squadra di Magia senza pressioni addosso e non ha niente da perdere. Vincenzo ha vinto gli spareggi nel 2009-2010 con il nostro blu conquistando la prima divisione, Marco si è arreso solo in finale per la serie C1 con il Rimini. Intanto serata di gara domani e premi per i dilettanti del calcio Umbro, per il calcio a 5 femminile, festa in casa dell'Orvieto, Martino Antonelli in azzurro. Andiamo a Foligno dove si accelera per costruire la società, scrive il Corriere dell'Umbria. Il gruppo di lavoro coordinato da Fussaro si vede in settimana al Vaio, ci sarà la posizione della Vis Foligno che ha posto alcuni distinguo. Sul Litter intanto in eccellenza la Voluntas del Frate al Lavoro, se restano la Cava e Santi Rossi, queste le condizioni poste dal direttore sportivo. Poi le giovanili, è stata la Fiorentina a portare a casa il primo torneo città di Assisi a Santa Maria degli Angeli per le arti marziali. Lungarotti fa sempre centro, grande successo anche per la settima edizione, due giornate con 750 atleti a Torgiano. Andiamo alla Nazione, Bucchi prepara un Perugia d'assalto. A Latina serve il Blitz per provare a dare un seguito al campionato. I dubbi del tecnico, fuori dai giochi del Prete di Carmine, resta in dubbio Gnaurè, qualche problema per Mustacchio. Tanto l'Assemblea di Bisanto Padre dice, maleducato, chi non vota per quanto riguarda invece il campo, incroci tra Bente Godi, Vigorito, il Grifo e il Cittadella. Ovviamente allo studio le tante possibili combinazioni dalle quali dipende il futuro del campionato, ovvero lo svolgimento o meno dei play-off. Intanto Nicastro piace in serie, ma il Pescara dice no. Il Pescara sembra intenzionato a riprendersi il forte attaccante. Ternana, sfida alla capolista, liberati verso il pienone. Rossoverdi attendono la spalla che punta a festeggiare la promozione. E poi Lega Pro, Maggi, buone notizie, tre recuperi in vista, play-off per la gara di play-off contro la San Benedettese. Pronti per sabato Candellone, Calombo e Ferri Marini. E ancora Gualdo, la famiglia Barberini pensa a rientro, una notizia importante. Settore giovanile unico tra Angelo Barberini, Gualdo Casacastalda e Flaminia. Tutto ciò per poter ridare prospettive al calcio a Gualdo, così pesantemente colpitore dall'ultima retrocessione in promozione. Gala dei direttanti, ci sono tutte le nomination. Noi proseguiamo con il messaggero, abbiamo già visto il ciclismo, con i risvolti anche economici e turistici. Diciamo il calcio, grifo, alleanze da play-off, titolo del messaggero. Mancano due partite, tante combinazioni per salvare gli spareggi. Perugia, Benevento e Carpi fanno squadra. Baroni e Castori sono decisi a fermare il Frossinone. Cristian Bucchi vuole dai suoi il colpo pieno a Latina. Monini, stasera a Monopoli, c'è contro Castellana. Monopoli è un giocatore della formazione spoletina. Proposto di Spoleto, Voluntas, la cava in bilico, la società cerca rinforze. Poi la bella storia di Riomiex, portiere anche del Gubbio, Folignate, però, che ha raggiunto lo scuretto con lo Spartak Mosca. Nel servizio anche la storia di Stefano Gianmarioli, e non solo Stefano Gianmarioli, artefice della promozione in Serie B della Cremonese. Volata a salvezza, sale l'urlo dei tifosi, parliamo di Ternana, sabato arriva la capolista, il ritorno del grande ex Antenucci, ritrova il suo liberato, il bomber della spalda, dopo l'esperienza in Inghilterra, torna a Terni, dove a suon di gol ha lasciato il segno, sicuramente molto amato. Noi ci fermiamo qui con la rassegna stampa, vi ricordo gli appuntamenti dei nostri notiziari, a partire dalle 19 per Provincia, Alto Chiascio, esporto ovviamente tutti gli aggiornamenti nel portale trgmedia.it. Questa sera appuntamento è con l'attesa, il ciclo di trasmissione, quinta puntata dedicata alla vigilia della festa dei Ceri. A me non resta che ringraziarvi per l'attenzione, e augurarvi un buon proseguimento con i programmi di TRG.